Il Paese dovrà credere e investire nella ricerca. La mia impressione è che l'atteggiamento delle politiche per la ricerca sia debole, frammentario e discontinuo, quindi inaffidabile. C'è bisogno di un giro di boa piuttosto significativo, perché ormai sono 20 anni che andiamo avanti così. Penso che la cosa più importante ancora prima della disponibilità economica sia l'affidabilità del sistema. Tu vorresti per pochi soldi al momento che vengono messi a disposizione, tu vorresti che quei fondi venissero assegnati attraverso modalità competitive, con dei bandi che si aprono e si chiudono con date certe, con delle erogazioni che arrivano nei laboratori a scadenze note. Non è che puoi avere un'idea e poi sospenderla in attesa che ti arrivi la nuova tranche di finanziamento. Quindi è questa aleatorietà di tutto il sistema che lo rende inaffidabile. La mia impressione è che l'attenzione della politica verso la ricerca scientifica in Italia sia scadente.